L'estate è insostenibile delle carceri, tra suicidi e proteste, uccidere i genitori così per nulla. Cronaca terribile, ma anche nell'estate dei veleni ci sono tanti segnali e semi di speranza. Basta guardare ai giorni degli scout e al meeting di CL a Rimini. Tira una brutaria attorno agli impianti delle auto, dilaga la cassa integrazione, si minacciano licenziamenti, autunno difficile. Viaggio nei comuni, tappa a Volpiano. Attualità, lo straordinario viaggio di Papa Francesco in Indonesia, la terribile estate in terra santa tra morti, vendette e cuniculi. Cultura, il confronto sul cristianesimo dopo uno scritto dell'arcivescovo Repole. L'addio ad un grande teologo valdese, il professor Ricca. Chiesa, cronaca della speranza con gli scout e CL, successo dei campi vocazionali. Oratori, Sant'Antonio Abate, piazza Stampalia. L'arcivescovo inaugura il nuovo campetto dell'oratorio. Santa Rita, i giovani animatori di estate ragazzi in Albania. L'esperienza estiva con il parroco Monsignor Mauro Rivella. Al cottolengo cammino triennale verso il bicentenario dell'opera fondata dal santo di Bra. La voce e il tempo, il nostro giornale.